L'ente agropolisi si candida al progetto del MIUR e del Ministero dell'Interno per la realizzazione di un asilo nido in località Moio. L'asilo nido sorgerà nei pressi del campo di calcio Peppino Impastato, in via del Piagese, dove è presente anche il Palagrin. Il MIUR e il Ministero dell'Interno hanno emanato congiuntamente un avviso pubblico inerente risorse da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione o la costruzione di edifici di proprietà comunale destinati ad asilo nido e scuole dell'infanzia. Gli enti locali interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso un progetto riferito ad un edificio pubblico. L'avviso prevede che la valutazione dei progetti avverrà sulla base di criteri predeterminati, tra cui il livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente. L'ente agropolese parteciperà all'avviso pubblico al fine di reperire i fondi necessari per la costruzione dell'asilo nido, una opportunità importante per la località Moio e i suoi abitanti. L'importo complessivo per la realizzazione dell'asilo è di Euro 950.000.